Iago Cuttini una sconfitta tra i due che però non dice tutta la verità su Padova avete fatto tantissimo turnover insomma sei più felice del risultato della prestazione dei ragazzi o sei più deluso dal risultato? No del risultato non sono assolutamente deluso è chiaro che si vuole sempre vincere però qui c'era qualcosa di più importante in questa terza fase del campionato l'ultima fase del campionato noi volevamo e vogliamo assolutamente vedere i ragazzi nostri anche i più giovani in campo vedere come se la cavano a questo livello a livello di superlega oggi abbiamo giocato con una squadra insomma che conosciamo Milano è una squadra molto molto forte che a me piace tanto anche come gioca e insomma vedere i ragazzi che riescono a competere magari a tratti contro una squadra così mi ha riempito di orgoglio chiaramente. Ma adesso continuerai su questa linea del turnover anche nelle prossime partite? Sì sì più che turnover noi investiamo adesso queste sette partite o queste sei che mancano adesso noi investiamo per far giocare quelli che magari hanno giocato un po' meno ma che hanno lavorato tantissimo durante l'anno perché è un gruppo meraviglioso di lavoro e meritano adesso di avere spazio non li metto magari tutti insieme tutta la squadra B insieme cerco oggi non mesi tanti ma già mercoledì con Ravenna magari si vedrà anche qualche altro volto un paio di volti nuovi e vediamo un attimo di dare questo tipo di responsabilità per farli crescere anche ma insomma anche per premiarli e per premiare tutto un gruppo di lavoro che fra titolare e riserve ha lavorato tanto quest'anno. Mercoledì con Ravenna che è un'altra squadra con tantissimi giovani e che oggi ha battuto Modena. Sì sì beh Ravenna la conosciamo ci ha battuto due volte in campionato è un giusto mix Ravenna perché comunque c'ha anche i giusti anziani diciamo c'è un palleggiatore che piace tantissimo quarantenne che fa veramente la differenza quasi in questo campionato qua insomma è il giusto mix giocano molto bene io non in questa fase qui non vorrei vedere tanto le squadre avversarie le abbiamo viste durante l'anno per cercare insomma di fare qualche punto riuscire a salvarci un po' sul campo adesso dobbiamo vedere un po' nel nostro campo proprio perché dobbiamo trovare equilibri a prescindere dalla squadra oggi c'era Milano insomma con Milano sulla carta non c'è storia ma noi avevamo guardato ai nostri equilibri a vedere il nostro gioco le nostre scelte la nostra solidità o meno e oggi mi sono piaciuti insomma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti